La città del Polino ha fatto da cornice ad un'importante manifestazione pugilistica organizzata dalla Voglio Ferrari Box di Castrovillari. La manifestazione si è tenuta presso il Palaitis e ha visto sfidarsi le rappresentative dilettantistiche provinciali di Cosenza, Crotone, Matera e Taranto. Tre vittorie ed un pari su quattro presenze sono state conquistate dalla benemerita Associazione del Polino, mentre una vittoria sono andate ai colori del Bruzia Cosenza, Box Crotone e Pugilistica Cariatese. Tutti i combattimenti hanno ottenuto il marchio di qualità e sul piano comportamentale e sul piano tecnico agonistico, suscitando tra il pubblico presente e i tecnici di Borgo Ring ampie conferme e approvazioni. Grazie.